Andate e fate discevoli tutti i popoli, dice il Signore. Ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo. Alleluia, 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 alleluia. Il Signore sia con voi, dal Mangelo secondo Matteo. Alleluia, alleluia, alleluia. Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, e insegnando loro a osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo. Parola del Signore. Ecco, potremmo racchiuntere in tre parole la breve riflessione che vi propongo. La prima parola è il cielo, il paradiso. La seconda è la missione sulla terra. E la terza è la Pentecoste. Oggi, tutta la Chiesa, questa sera e domani, celebra quest'evento dell'ascensione del Signore, l'innalzamento di Gesù, e alla destra del Padre, l'ingresso definitivo della vita eterna, del Paradiso. È il più grande dei misteri, di questo noi ben poco possiamo dire. Ci aiutano un po' i mistici che parlano a molte di queste visioni, di questo mistero grande. Ecco, noi cosa possiamo prendere da questo? Possiamo prendere innanzitutto una legge della vita cristiana. Quando cresce in noi la fede, l'amore per Gesù, avviene una specie di attrattiva per il Paradiso, per il Paradiso, per il cielo. Si sente che noi siamo fatti per quella patria. Ed è bellissimo già che quando siamo sulla terra, avere una fede certa che siamo nati per il Paradiso. Tutto passerà. Rimarrà questa vita definitiva in Dio, piena di luce e di gioia. E non so se ci avete fatto caso, ma nella orazione di inizio il sacerdote ha detto oggi in Cristo è sceso al cielo, la nostra umanità è innalzata accanto a te nella gloria. E noi viviamo nella speranza di giungere noi pure là. È una cosa bellissima. Dobbiamo coltivare quest'idea del Paradiso, di vedere Dio Padre, vedere Gesù, godere per sempre della sua vita, della sua luce, del suo amore. Questo è il nostro futuro. Ecco, però, questo fede a volte comporta un rischio. L'aveva intuito Hegel, un filosofo tedesco, che diceva che i cristiani sprecano per il cielo le energie che devono spendere sulla terra. Ma questa è una visione sbagliata della fede. Perché? Non so se l'avete notato. Proprio quando Gesù sale al cielo, dà il comando della missione. Andate nel mondo a tutti i popoli e fateli diventare i miei discepoli. Noi abbiamo sulla terra una grandissima missione, da cui dipende non solo la nostra santità, il grado anche di amore che sviluppiamo per Dio, ma dipende la salvezza di altre persone. Ogni minuto sulla terra fa parte di questa missione. Il Signore ci lascia qua giù, finché Lui ritiene che dobbiamo portare avanti questa missione. Però questa missione è troppo grande, non è una missione commisurata alle nostre forze naturali. Ecco perché Gesù dà questo comando ai discepoli. non allontanatevi da Gerusalemme. Aspettate che si compia la grande promessa che io ho fatto. Giovanni ha battezzato con l'acqua, voi sarete battezzati con lo Spirito Santo. Ecco, per compiere la missione che Dio ci dà abbiamo bisogno di questo Spirito. Adesso facciamo una breve preghiera di ringraziamento al Signore per rispondere anche un po' a questa parola. E diciamo insieme, grazie Signore, Ci riveli il mistero della Tua gloria. E riveli il mistero della Tua gloria. Portaci con Te in Paradiso. Portaci con Te in Paradiso. Aiutaci a comprendere questo nostro futuro. Aiutaci a comprendere questo nostro futuro. Fateci e rimbocchiamo le maniche. e intanto compiamo la missione che ci hai dato. E riempici sempre di più del Tuo Spirito. Riempici sempre di più del Tuo Spirito. Anche attraverso questa Santa Messa. Anche attraverso questa Santa Messa. Amén. Anche attraverso questa Santa Messa. Grazie a tutti.